Ah 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 Uuuuuh Con Benjamin Fonte commentiamo il quarto successo consecutivo del Sulmona Futsal che oggi ha battuto il Città di Teramo Non è stata una gara facile perché nel corso della partita Il Teramo ha avuto anche i suoi momenti buoni, però alla fine si può dire successo meritato del Sulmona con protagonista in assoluto per la tripletta Ginnetti. Qual è il suo commento al termine di questa partita? Sì, è stata una partita che l'avevamo preparata in questo modo. A tratti siamo riusciti a fare quello che abbiamo preparato durante la settimana, a tratti un po' meno, però sì, sono molto soddisfatto del lavoro che abbiamo fatto e del risultato e della vittoria. Perché comunque è vero anche che sì, che il Teramo ha avuto un sussulto nella seconda parte della gara, ma non è che abbia impensierito più di tanto il nostro portiere. E poi tutto sommato noi abbiamo avuto sempre le nostre classiche tante occasioni che non riusciamo mai a metterla dentro. Per detto questo comunque sono soddisfatto, sono contento. Sì, anche perché un gol del Teramo è stato realizzato quando era entrato il portiere del movimento e lì c'era stato un errore che poi ha determinato il gol. Però non vogliamo parlare di questo, vogliamo parlare dell'uscita di Silvestri. C'è stato, come dicevamo, l'ingresso degli esposti. Quali sono le sue condizioni? Nulla di preoccupante. È un problema che si porta avanti dall'inizio del campionato. Oggi ha avuto una riacutizzazione di questo problema. Ha preferito fermarsi. Vediamo, comunque non ci sono problemi. Non credo che sia una cosa molto difficile da curare. Così l'allenatore del Sulmonafuzza, la Benjamin Fonte, dopo il successo per 7-3 contro il Città di Teramo, che permette di consolidare il secondo posto alle spalle degli avezzanesi della Fenice. L'intento è quello di cancellare dalla mente quei punti persi dalla gara del 12 gennaio proprio contro la Fenice alla sfida interna del 9 febbraio con la Nobel Boys che hanno fatto perdere la vetta. Anche la Fenice ha vinto. Rimangono questi quattro punti di differenza tra la Fenice e il Sulmona. C'è sempre il rammarico per quei punti persi all'inizio del 2019. Un inizio di anno catastrofico che poteva essere evitato oppure no, mister Fonte. È così. Purtroppo abbiamo avuto un calo e questo calo ci è costato caro perché poi alla fine questo campionato poteva essere sicuramente alla nostra portata e lo era. Ma in alcune partite ci sono stati dei momenti in cui non abbiamo saputo leggere, non abbiamo saputo combattere, non abbiamo saputo lottare per quello per il quale ci alleniamo tutti i giorni o due volte alla settimana. Quando ci alleniamo. Comunque va bene, prendiamo quello che viene. Nella speranza che comunque la Fenice possa fare qualche passo falso e venire qua a giocarsi il campionato l'ultima giornata. Noi aspettiamo comunque. C'è sempre un secondo posto da onorare e la possibilità di giocare i playoff in questa sede. Comunque è sempre una sede amica e quindi siamo abituati a giocare qua. Adesso conosciamo Stefano Osuna, lo conosciamo direttamente perché è la prima volta che si fa intervistare, però lo conosciamo già da diverso tempo per essere stato un giocatore della Sagittario, adesso del Sulmona dal mese di dicembre. Ecco, prima di parlare anche dei tuoi trascorsi e di questo percorso che stai seguendo in Valle Peligna, vogliamo soffermare l'attenzione su questa partita. Una gara vinta con merito quest'oggi con il Teramo. Qual è il tuo commento? È stata una gara, all'incomincio, difficile, ma abbiamo fatto il lavoro che dovevamo fare, che abbiamo fatto tutta questa settimana nell'allenamento, ma è uscito tutto come noi volevamo. Oggi comunque si sente di fare un plauso al gruppo, tutti hanno meritato questo successo, prima abbiamo menzionato Ginnetti perché ha realizzato la tripletta, però merito alla compattezza del gruppo, è vero? Ma assolutamente sì, questa è una squadra che, come ho detto già nell'intervista passata, ha un valore inestimabile in quei giocatori che ho trovato qui, che venivano da una retrocessione l'anno scorso e che avevano voglia di riscattarsi. Loro sono l'anima portante di questa squadra e quindi il plauso praticamente va a tutti quanti, sono tutti bravi, tutti si impegnano, tutti hanno voglia di fare. Qualche volta il peccato è la gioventù e qualche volta facciamo qualche peccato di gioventù, di inesperienza. In quelle partite ci è costato caro perché io penso che non meritavo di perdere contro Nobel Boys in casa, penso che non meritassi di perdere contro la Fenice lì e nemmeno contro il Dinamo Faras lì. Abbiamo giocato, ma questo è il calcio, a me piace comunque, non sono un allenatore che piace chiudersi a dieci metri, mi piace giocarmi la partita e l'abbiamo sempre fatto a viso aperto, conoscendo i rischi. Bene, è andata così, comunque siamo secondi in classifica, ci teniamo stretti questa posizione, cercando di onorarla fino alla fine. Mancano tre giornate alla fine della stagione regolare che saranno disputate con l'obiettivo di vincerle tutte per giocarsi il salto di categoria anche attraverso i play-off. E questa la convinzione del gruppo espressa a fine gara dall'italo-venezuelano Stefano Suna. Noi il lavoro lo dobbiamo fare sempre in settimana, ci riproviamo di prendere tutti i punti che dobbiamo fare e questo è il lavoro di tutti i ragazzi qua e pure di me. Oggi sei stato anche richiamato dal mister Fonte dopo che il termo aveva segnato, lì c'era stato l'inserimento del portiere di movimento, poi qualcuno ha commesso un piccolo errorino, chi è stato? Io non l'ho visto bene, chi è stato? Sì, sono stato io. Sono cose che succedono in campo ma... T'abbiamo srammatizzato con una battuta. Sì, sì, sì. Ma questo è il gioco, questo è il calcio e noi ci riproviamo a prendere tutti i punti che dobbiamo fare. Setti, sei arrivato a dicembre qui a Sulmona, come ti trovi con questi compagni? Io sto benissimo qua, tutti i compagni sono i migliori che io posso... Non potevi incontrare di meglio, è vero? Non potevi incontrare... Esattamente, esattamente. Precedentemente, come dicevamo, giocavi con la Sagittario di Pratola Peligna, sei italo-venezuelano, ecco da quanto tempo ti trovi qui in Valle Peligna e come sono state le tue esperienze passate nel calcio a cinque? Sì, sono appena arrivato, sono quattro mesi qua, ho giocato con il Sagittario nel 2015, Serie D, ma sto qua per dare una mano, per vincere il campionato che è il primo obiettivo. Il primo obiettivo è vincere il campionato, se non dovesse riuscirci il Sulmona Fuzz, perché ci sono sempre quei quattro punti, l'obiettivo è quello dei play-off, però il gruppo è carico e pronto per affrontare anche gli eventuali spareggi. Sì, ce la faremo. Parola di Osuna. Sì, sì. Sabato prossimo in programma la seconda gara casalinga consecutiva per il Sulmona Fuzz, che ospiterà al palasport dell'incoronata, la Virtus San Vincenzo Valleroveto.